Ma, proprio non ti capisco. E ti ho comprato la coca. Prego. Ma Francesca, ma che fai? Perché, che ho fatto? Metti la pasta in frigorifero adesso. Va bene, ma dove la mettiamo? Ma come dove la mettiamo? Sono d'accordo. Ecco. Ah, non c'entra, lo vedi? Te l'avevo detto. Ma mettila per lungo, certo, no? Ah, sì. Sono fatte apposta queste cucine. Che marito intelligente che ho. Mi chiamò sapevo. Ah, finalmente. Apriamo questa sorpresa. Ma, 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 è una gallina viva. Ma certo che è viva. Non è possibile. Bella. Vieni qua. Ma tipo, ma perché non gli diamo qualcosa da mangiare?